ciao a tutti di solito a pasqua mando un'immagine con una frase per gli auguri ma quest'anno eseguirò un piccolo brano una parte dell'inno la gioia di beethoven sono principiante del violoncello quindi non aspettatevi che riesca a tenere perfettamente il tempo e ci saranno anche altre imperfezioni grazie a tutti buona pasqua a tutti grazie a tutti